Musica Un nuovo modo di raccogliere i rifiuti con il Tetra Pak, la sindaca giaciglia francese, quali sono le novità? Le novità è che stiamo facendo una nuova, dobbiamo iniziare a fare una nuova campagna di sensibilizzazione per la raccolta del Tetra Pak. Il Tetra Pak è semplicemente buste di latte, buste aranciate, succhi di frutta, non è una cosa complicata da fare. E quindi noi pensiamo che con questo se funziona veramente potremmo avere un introito maggiore nelle casse che riguardano poi la gestione della nettezza urbana. Insomma e quindi una possibilità sembri di andare a interferire col bilancio della Tari. Sindaca, quando verranno raccolti questi Tetra Pak? Qual è il giorno prestabilito? Ma il giorno prestabilito è praticamente il mercoledì, c'è anche scritto su questo deployant che sarà dato e quindi è un giorno dedicato al Tetra Pak. Per quanto riguarda un eventuale risparmio sulla tassa dei rifiuti? Vabbè, questo dovremmo raccogliere tanti di quei Tetra Pak per il risparmio ma sicuramente contribuisce ad alleggerire un po' quello che è la spesa pubblica. Però è chiaro, tutto dipende da quanti ne raccogliamo, quando sulla spesa pubblica magari potremmo destinare questa somma sempre per ovviamente la gestione dei rifiuti. Costantino Angela, responsabile dell'ufficio ambiente del comune di Battipaglia, quali sono le novità per quanto concerne questa raccorda del Tetra Pak? La novità essenziale è che finalmente abbiamo capito dove possiamo smaltire questo poliaccoppiato, perché fino ad oggi trattandosi proprio di un poliaccoppiato, quindi di un prodotto costituito da più elementi, avevamo un'incertezza nel conferirlo, tant'è vero che a volte andava nel cartone, a volte andava nel multimateriale. Adesso abbiamo chiarito, anche grazie alla presenza di una piattaforma che è in grado di trattare e di selezionare questo materiale, che possiamo conferirlo con il multimateriale leggero, quindi insieme alla plastica e all'alluminio. Questa è una cosa che ci consente un risparmio in termini di raccolta differenziata, perché nel momento in cui questo prodotto finiva nell'indifferenziato andava ad appesantire una frazione merceologica di rifiuto che per essere smaltita ci costa anche 150 euro a tonnellata, quindi ridurre l'indifferenziato vuol dire risparmiare i costi dello smaltimento del rifiuto. La raccolta per il mercoledì ci sono altri giorni in programma? No, la raccolta rimane fissata ed è contemporanea, insomma quella che è sempre stata fatta per il multimateriale. Non cambia nei giorni di conferimento. Per quanto riguarda riduzioni, costi c'è qualche novità? Al momento no. Vediamo prima quale sarà innanzitutto l'effetto di questo cambiamento e vediamo quanto riusciamo a ridurre il quantitativo di indifferenziato. Gio Sindaco Quatozzi con Alba, con la delega all'Alba, quindi è un incarico importante e inizia questa raccolta del Tetra Pak con informazioni importanti per i cittadini. Ma innanzitutto vorrei precisare che non è un incarico ad Alba, è soltanto una collaborazione che io cerco di dare alla Sindaca per quanto riguarda la partecipata Alba, quindi non è una nuova delega data al Vice Sindaco. Per quanto riguarda invece questa iniziativa sulla raccolta differenziata abbiamo deciso appunto di comunicare, di fare questa conferenza stampa perché noi abbiamo a cuore appunto la raccolta differenziata perché sappiamo che è un risparmio per il cittadino e quindi anche per l'ente che poi deve pagare il conferimento. Ragion per cui verrà portato in tutte le case il Depliant che dopo se volete lo riprendiamo, che sarà dato appunto in tutte le case, sarà fatta un'informativa, molti di questi resteranno al Comune e ad Alba proprio per far capire come fare la raccolta differenziata. La novità rispetto al passato e quindi rimangono i giorni uguali, gli orari di conferimento e di raccolta tutti uguali, l'unica cosa che cambierà è il Tetra Pak dove viene appunto precisato che va nel multimateriale, ossia il Tetra Pak viene conferito insieme alla plastica e insieme ai metalli, quindi è una diciamo una novità probabilmente per alcuni che secondo le informazioni che ci giungono andavano a conferirlo probabilmente diversamente. È importante quindi sottolineare che questo Tetra Pak che ad esempio sono le buste di plastica e le buste di latte devono essere conferite appunto insieme ai metalli. Un ringraziamento oltre ad Alba che ha partecipato con il Comune di Battipaglia va alla piattaforma Comieco a cui facciamo riferimento a Battipaglia, a Nappi. Quindi un ringraziamento per quello che stanno facendo perché è tutto a carico loro, quindi da parte del Comune non c'è alcuna spesa. Faranno tutto, diciamo hanno stampato e faranno anche loro la consegna in tutte le case, saranno affissi manifesti, quindi anche le affissioni a carico loro e appunto lì dove qualcuno ha bisogno di qualche informazione più è sempre a disposizione il Comune e la società Alba che ancora ringraziamo per l'ausilio che ci dà in tutti i momenti utili per la città. Grazie a tutti.